Puntare alla digitalizzazione è come uno dei più importanti fattori di cambiamento economico e sociale. Il Presidente della Regione Mario Liverio sintetizza così la connessione con Bandalar dentro il 2016 di tutti i comuni calabresi. Un'operazione importante, non semplice, dietro cui c'è il Ministero per lo Sviluppo Economico, la Regione e Telecom Italia, vincitrice del bando indetto da Infratel e che ha già realizzato il 30% degli interventi, operando su 223 comuni. A presentare la maxi-operazione, che consentirà di aiutare la Calabria a raggiungere gli obiettivi dell'agenda digitale europea, c'era il Presidente di Telecom Italia, Giuseppe Recchi, il Direttore Business di Telecom Italia, Simone Battiferri, Gino Miro Clecrisci, Rettore Unical, Enzo Bruno Bossio, componente Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, Ernesto Carbone, componente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Salvatore Lombardo, amministratore delegato Infratel Italia e Carlo Sismondi, Presidente del Forum delle Pubbliche Amministrazioni. Ben 100 i milioni di investimento complessivo, di cui 63,5 di fondi pubblici europei e 36,6 a carico di Telecom Italia. Pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini, i tre nodi attorno a cui si snoderà il progetto, un progetto che, ammesso Oliverio, è una delle poche cose positive su cui ha iniziato a lavorare la vecchia giunta. Orgogliosa Telecom Italia, i grandi interventi infrastrutturali richiedono rapidità di esecuzione e noi abbiamo l'opportunità di essere coloro che li renderanno possibili, perché contribuire allo sviluppo e alla trasformazione del Paese è la nostra missione.